facciamo un atterraggio di nico pure eh veramente sei dei due artisti però tu qui c'hai dei wing over che fa impressione grande facciamo da vicino così vediamo senza nemmeno aiutarti con le a no un po' dinamica se ti fa il negativo devi girare il corpo va bene grazie ai nostri piloti ci divertiamo